Buongiornissimo, buongiornissimo a tutti, benvenuti in questa diretta, come al solito, iperimprovvisata, che riesco a fare nei ritagli di tempo, orario, pausa, pranzo. Oggi voglio parlarvi di una cosa interessante, che è motivazionale, diciamo, che è piuttosto in linea con quanto abbiamo discusso nel webinar di lunedì sera, che vi ricordo che abbiamo caricato martedì sul canale, in via del tutto eccezionale, perché ci siamo accorti che alcuni di voi hanno avuto problemi ad accedere, fondamentalmente perché abbiamo saturato l'aula e ci sono stati problemi di accesso, proprio perché abbiamo andato in crash il sito. Bene, vi voglio parlare di Flavio Bucci, e questa è una diretta in cui parleremo brevemente di una storia interessante di Flavio Bucci, che io non è che conosca particolarmente bene, ho letto un po' la sua storia, ed è un attore italiano che purtroppo è morto qualche giorno fa, ma che ha una storia di gestione finanziaria, diciamo, che è perfettamente coerente con i temi trattati l'altro ieri. Quando ho letto l'annuncio ho detto, e ho letto un po' la sua storia, ho detto no, questo ce ne dobbiamo parlare in una diretta perché i casi che confermano quello che sostenevo nella diretta del 17, nel webinar del 17, troviamo riscontri quotidiani. Quindi l'obiettivo di questa diretta è spiegarti un po' e fare quattro chiacchiere su questi temi e poi chiaramente rispondere a domande e risposte che ci possono essere su quello che è il nuovo percorso che abbiamo lanciato e che è in promozione fino all'8 di marzo. Allora, ripristina la chat, vediamo se riesco anche a vedere la chat, apri la chat in nuova finestra. Bene, allora, premessa, chi è Flavio Bucci? Flavio Bucci è appunto un attore italiano e tra l'altro è famoso per aver interpretato il pittore Ligabue in uno sceneggiato Rai, metà degli anni 70-80, ma anche per La Piovra, non so se vi ricordate La Piovra, che era un famoso fiction della Rai con Michele Placido negli anni 90. Io quando ero alto così mi ricordo che i miei genitori guardavano La Piovra e si era arrivati fino alla Piovra 5 o 6, non lo so, era una specie di serie che è andata avanti per molti anni. Una versione italiana del padrino, diciamo, e quindi insomma un attore che è partito direi dal cinema ma poi ha lavorato molto in teatro e comunque che ha avuto una carriera molto 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 importante, faceva spettacoli in teatro soprattutto con cadenza giornaliera, quindi adesso io non sono un grande esperto di teatri ma comunque sicuramente una persona che non ha avuto problemi di reddito, tanto che dichiara, ho trovato un articolo di Vanity Fair, non so perché mi sono ritrovato a leggere un articolo di Vanity Fair, ma vabbè ho trovato un articolo di Vanity Fair in cui diceva come lui è arrivato a guadagnare anche 2 milioni di lire al giorno negli anni 90, cioè 2 milioni di lire negli anni 90 potrebbero essere 2-3 mila euro al giorno di oggi. No, sì, verosimilmente, 3 mila euro al giorno di oggi, più o meno. Perché te ne parlo? E perché è coerente con quello che ci siamo detti l'altro ieri nel webinar? No, sì, lunedì nel webinar. Perché nonostante avesse redditi di questa entità, Flavio Ibuci purtroppo è morto due giorni fa in miseria. Ok? Questa intervista del 18 di ottobre del 2018 che leggo di Vanity Fair è stata tratta da un'intervista che, cioè, è un articolo tratto da un'intervista che gli è stata fatta in una casa famiglia sul litorale di Fiumicino dove oggi, cioè al tempo dell'intervista di 2018, Flavio Ibuci viveva quasi in miseria. E allora penso che sia interessante chiedersi com'è possibile che una persona che ha fatto, stavo guardando su Wikipedia quanti film ha fatto, devo scrollare diverse volte per vedere la fine, non lo so, 50 film, 60 film, televisione, cortometraggi, teatro, cinema, ha guadagnato medie di 2 milioni di lire al giorno negli anni 90, 80-90, quindi non si può dire che non guadagnasse bene, com'è possibile che finisca tutto, finisca la propria vita in miseria? Aveva delle sane abitudini di gestione delle proprie finanze? Stiamo valutando solo questo, non lo conosco come persona, non lo conosco neanche bene come attore, mi interessa studiare il caso dal punto di vista finanziario, che invece è una tematica che conosco bene, com'è possibile che una persona con un reddito di tale entità si ritrovi a non avere, cioè a vivere una vita, l'ultima parte della sua vita in miseria? Allora partiamo dal presupposto che aveva un po' un approccio alla vita alla James Dean, diciamo, ho speso tutto in vodka, cocaina e donne, è un po' mi è venuta in mente la frase di George Best, calciatore, che disse, testuali parole, è famosa perché si è vista in modalità meme e dappertutto, ho speso gran parte dei miei soldi per alcol, donne e macchine veloci, tutto il resto l'ho sperperato, bellissima questa frase, cioè come dire che insomma viveva la sua vita come se fosse, come se ogni giorno fosse l'ultimo, però poi con questo approccio non c'è da meravigliarsi se alla fine della tua, cioè nella seconda, nell'ultima fase della tua vita, quando magari non lavori più e dovresti vivere di quello che hai accantonato, ti ritrovi in miseria. Bene, questa è stata un po' la filosofia che ha guidato Flavio Bucci e direi che può essere sicuramente un modello come attore da prendere come riferimento, per quanto riguarda la gestione finanziaria, lo porto come esempio che non penso sia da prendere come riferimento, anche perché solo di bamba, questa bella terminologia da giovani, solo di polvere bianca, di cocaina, ha bruciato 7 miliardi di lire, ok? 7 miliardi di lire, articolo Vanity Fair del 18 di ottobre 2018, ok? Che riporta di Nicola Bambini, riporta come si è bruciato 7 miliardi di cocaina, cioè di euro, scusa, 7 miliardi di lire in cocaina, incredibile, si sparava 5 grammi al giorno, testuali parole sue, poi dice, poi scarpe, cravate che non mettevo mai, e le donne, insomma, diciamo che è più o meno in linea con George Best, non si parla di autobloci, ma più o meno in linea. Cosa possiamo imparare da questa storia? Cosa possiamo imparare? Scrivetemelo nei commenti, poi vi darò quella che secondo me è la mia morale, ma non è, diciamo, molto diversa da quello che ho detto il 17 nel webinar di lunedì, che ripeto, potete trovare in via del tutto eccezionale nel canale, perché l'abbiamo caricato. Qual è la morale di questa triste storia? Ci aggiungiamo anche che dal punto di vista familiare, due matrimoni alle spalle, tre figli, insomma, dichiara di non essere stato un padre vicino ai suoi figli, diciamo che potenzialmente è un gran bravo attore, ma dal punto di vista della capacità di gestire le proprie finanze e un po' di pianificare la sua vita in generale, non penso sia un modello da prendere come riferimento, perché, per quanto abbia avuto redditi alti, patrimoni potenzialmente alti durante la sua vita, elevati durante la sua vita, ha chiuso, si è avvicinato alla fase conclusiva della sua vita in miseria. È chiaro che nessuno di noi ambisce a portarsi soldi nella tomba, ma sicuramente in americano dicono to run without money before running out of life, cioè almeno arrivi alla fine dei tuoi giorni con il capitale che ti serve per poter mantenere il tuo tenore di vita. Running out of money before running out of life, una roba di simile. Quindi, qual è il messaggio? Ha sperperato tutto, non ha ragionato neanche nel medio periodo, non dico nel lungo, che può essere un limite per alcuni, ma neanche nel medio, risultato non si dice nell'articolo quando è arrivato ad una condizione finanziariamente instabile, ma sicuramente gli ultimi giorni della sua vita li ha passati in una condizione di miseria, come è definito in questo articolo, di cui non sembra neanche essere particolarmente preoccupato, ma secondo me a suo tempo doveva esserlo. Io non mi guarderei allo specchio in modo molto, come dire, con molta autostima, se nonostante un percorso di questo tipo, di popolarità a livello nazionale, io non lo conosco particolarmente, però diciamo probabilmente chi ha 10-15 anni più di me, o 20, o magari i miei genitori lo conoscono meglio di me, però non mi guarderei allo specchio con molta autostima, perché comunque ne ho cacciati via parecchi di soldi e mi trovo in una condizione di bisogno, nonostante mi siano passati per le mani tutti questi soldi. Quindi, questo è un po' il messaggio, ed è una conferma totale di quello che ci siamo detti nel webinar del 2017. C'era bisogno di un'altra conferma? No, ma come vedi, i casi, come dire, le dimostrazioni sono sotto gli occhi di tutti, poi c'è chi vuole vederle e chi non vuole vederle. Non è tanto il reddito che fa la differenza, non è tanto il patrimonio, sono le abitudini di spesa, che poi le abbia spese in bamba, in cocaina o in auto sportiva è indifferente, manteneva un tenore di vita che non si poteva permettere, nonostante avesse un reddito palesemente sopra la media e potenzialmente gli siano passati di mano, se si è speso 7 miliardi di lire, quindi l'equivalente di 3 milioni e mezzo di euro di allora, che quindi oggi varrebbero molti di più, se se gli è bruciati in cocaina vuol dire che gliene sono passati per le mani molti di più, potenzialmente gliene sono passati per le mani 4, 4 e mezzo milioni di euro, ok? E com'è possibile che non gli sia rimasto niente e che sia morto in miseria? Per me è incredibile e questa è una dimostrazione che le buone abitudini o le cattive abitudini sono indipendenti da patrimonio e da reddito. Ci sono persone che possono avere patrimoni e redditi nella norma molto più limitati di questo personaggio che stiamo analizzando in questa diretta, che riescono ad ottenere risultati o comunque raggiungere condizioni di benessere finanziario in cui il denaro non è più una preoccupazione, ma è qualcosa che viene gestito nella normalità perché adottano sane abitudini e esempi opposti come questo dove il patrimonio poteva essere anche una volta e mezzo, il reddito poteva essere anche una volta e mezzo, ma se lo sarebbe bruciato comunque tutto. Mike Tyson ha bruciato un patrimonio di 500 milioni di dollari. Se gli avessero dato altri 200 milioni di dollari in più si sarebbe bruciato anche quelli. Non c'è limite a quanti soldi puoi bruciarti se non sei finanziariamente non dico parsimonioso, ma acculturato, consapevole. Ecco, consapevole. Se non sei finanziariamente consapevole non c'è limite ai soldi che puoi bruciare. E quindi questa è la dimostrazione che non sono una variabile l'ammontare di denaro. È qualcosa che possiamo controllare bene o controllare male indipendentemente da quanto ne abbiamo. Poi è chiaro che le sfide che ha una persona che ha un reddito di 600 euro al mese sono maggiori e si trova davanti a maggiori difficoltà da dover affrontare. Ma queste regole di buon senso valgono indipendentemente dal patrimonio che si ha e dal reddito che si ha. Quindi, questo era il messaggio di questa breve diretta. Ci tenevo a condividerlo perché è contestuale. Purtroppo è morto due giorni fa, il 18 all'età di 72 anni non è sicuramente un modello che a me piace ripeto, magari dal punto di vista della recitazione dal punto di vista della sua professione è sicuramente stato un modello per molti dal punto di vista della gestione delle proprie finanze della gestione delle proprie decisioni in una vita professionale in una vita intera non penso sia un gran modello di riferimento però poi il bello è che la vita ognuno prende le decisioni che vuole però siamo qui a cercare di imparare da chi ottiene risultati sicuramente non si trova non passa dalle stelle alle stalle cioè il messaggio è proprio questo perché c'è qualcosa che è andato storto ok? Quindi fatemi sapere cosa ne pensate come faccio a vedere la ecco qua la chat e intanto saluto chi è in diretta su Facebook ciao Luca, ciao Lince ciao Salvo vediamo domande su YouTube ricordo un'intervista di Paolo Villaggio spiegava che spendeva anche 50 milioni in un giorno con i suoi amici un giorno erano a Napoli e decisero di andare a mangiare la paella in Spagna con un aereo privato andate e ritorno sì non so ecco direi che non so la situazione finanziaria di Paolo Villaggio sarebbe interessante vediamo se la trovo non penso sia finito cioè si è morto con problematiche ma è vivo o è morto Paolo Villaggio? no è morto ditemelo Villaggio vediamo non lo so eh no ah è vero che è morto qualche anno fa nel 17 non mi risulta che sia che abbia avuto problemi finanziari però cioè ce ne sono tanti di personaggi che hanno avuto problemi finanziari durante il webinar citavo Lady Gaga anche lei non so con quanto con che reddito ha avuto problematiche di questo tipo e Johnny Depp Johnny Depp ha dichiarato che in un certo periodo della sua vita spendeva 2 milioni di dollari al mese oh ma quante Ferrari compri con 2 milioni di dollari cioè dico ci riempi un paio di capannoni di in un paio di in un anno ci riempi un capannone di Ferrari cioè vi rendete conto dell'entità di capitale che può essere bruciato e il punto è ma ben venga a bruciarselo se ce li hai spendili come ti pare l'importante è che poi non finisci in bancarotta e invece Johnny Depp è finito in bancarotta quindi vale il messaggio è sempre spendi quanti ne vuoi spendili come ti pare quanto ti pare basta che poi hai fatto i conti come si deve e e non ti ritrovi in situazioni di 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 difficoltà economica che invece è l'atteggiamento che contestiamo e che riteniamo si atteggiamento al quale ritengo si debba stare molto attenti e nell'ottica di evitare situazioni così in futuro e vediamo se c'è qualche altro commento questo è un po' anche MC Hammer ah è il rapper sì finito per strada vendere Rolex Rolex falsi beh poi nell'ottica nel mondo del rap 50 cent ne abbiamo parlato lunedì ma adesso basta fare qualche ricerca e sono tantissimi i casi perché 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 queste persone cioè al di là del fatto che tenevano avevano un tenor di vita che non si potevano permettere perché si sono ritrovati in questa situazione scrivetemelo nei commenti perché ritengo se devo darvi una mia visione è che la mancanza cioè quello che li ha portati in questa situazione non è tanto quanto spendessero perché lo ripeto se tu hai reddito patrimonio e poi chi te lo impedisce di spenderli il problema è se tu hai reddito e patrimonio ma non hai fatto due conti di quanto costa il tuo tenore di vita nel lungo periodo quanto il tuo patrimonio può generare reddito da investimenti per sostenere il tuo tenore di vita che magari non può essere più sostenuto solamente dal reddito da lavoro insomma manca qualunque tipo di pianificazione sul futuro è gente che vive alla giornata cioè l'atteggiamento che li ha portati in queste condizioni è il vivere alla giornata cioè ed è quello che io contesto e che non è che lo contesto perché per mia opinione personale perché nessuna persona di successo che ho studiato che è rimasta di successo cioè che è partita da una condizione di normalità senza particolari aiuti familiari o che ha ereditato soldi eccetera ma che ha creato il suo destino e ha mantenuto una condizione finanziaria di successo che ha mantenuto una condizione di successo finanziariamente di successo per lunghi periodi di tempo bene non hanno seguito questo atteggiamento non hanno utilizzato questa mentalità hanno utilizzato un atteggiamento di lungo periodo quindi non hanno vissuto come non ci fosse un domani perché? perché un domani ci sarà a meno che non ti auguri di morire in giovane età e non ha senso sono chiaramente provocatorio quindi dal momento che nessuno si augura di morire in giovane età un domani ci sarà e se vuoi se vuoi spendere tanto e ci sta lo ripeto non siamo qui a dire che dobbiamo andare a lavarci al ruscello per risparmiare l'acqua corrente no capisci il messaggio dobbiamo però capire qualcosa davvero ci possiamo permettere e cosa non ci possiamo permettere non possiamo ragionare però solo sul oggi me lo posso permettere quindi anche domani me lo potrò permettere perché è sbagliato perché è la storia della cicale e della formica è una novità no ma però se fosse così banale questo concetto non esisterebbero questi casi se tutti la favoletta della cicale e della formica la racconto ai miei figli e ci sta perché sono bimbi e hanno 3-5 anni però dico se fosse un concetto che tutti noi facciamo nostro e siamo tutti d'accordo che non possiamo non possiamo non considerare che ci saranno anche dei momenti di difficoltà futura legati a a cose imprevedibili e quindi comunque dobbiamo avere del margine dobbiamo pianificare nel lungo periodo ecco se non lo facciamo non possiamo meravigliarci poi che un domani ci ritroviamo come nelle condizioni che discutevamo sia nel webinar che quella che abbiamo discusso in questa in questa diretta di Flavio Bucci cioè direi che sia abbastanza logico però è logico ma comunque è un atteggiamento che molte persone non adottano perché? perché? fatemelo sapere nei commenti Monica 50 milioni io certe io certe cifre non riesco neppure a immaginarne al massimo arrivo al triplo di quanto abbiamo pagato la casa Uompia lo stesso succede a molti che vincono alla lotteria è un altro tema è un altro tema che abbiamo discusso nella sempre nel sì sia nel webinar che nella sessione di domande e risposte che c'è stata a seguire leggete le statistiche dei milionari cioè di chi vince la lotteria e perde tutto nell'arco di 5-7 anni è incredibile poi dopo se non ci sono domande vi racconto un aneddoto interessantissimo di una persona che avevo capito che era invece saggia dal punto di vista della gestione del denaro che è riuscito a preservare il capitale che ha vinto Yuri non avere il cervello eh sì Mauro forse l'orgoglio e l'ego hanno preso il sopravvento sì certo sì sicuro nessuna entrata solo uscite o comunque Doug o comunque più uscite di quelle che sono le entrate che per un mese è sostenibile due mesi è sostenibile intanto inizia a mangiare patrimonio poi te lo mangi sempre di più e poi se non tagli le spese bankruptcy Wompia il problema è il mindset che hai c'è chi che cerca la gratificazione immediata anche la mia ex era così bruciava tutto quello che guadagnava con la sua attività sì infatti in inglese lo chiamano delayed gratification e questo è la vera differenza questa forse avrei dovuto aggiungerla nelle slide la vera differenza tra le persone di successo lo ripeto qui prendiamo come riferimento parliamo di in ambito finanziario ma vediamo che dal momento che si parla di mindset potremmo prendere questi concetti e applicarli anche a imprenditori di successo gli imprenditori di successo persone che ottengono grandi risultati sono persone che riescono a delay gratification cioè portare avanti la gratificazione in altre parole sono in grado di mangiare bocconi amari più di altre persone e capire che devono cercare il più possibile di portare in avanti senza portarlo a infinito ok ma più avanti quella che è una gratificazione quella che è una ricompensa tanto che se avrete letto un po' di biografie di imprenditori famosi questi ti dicono per me anche se avevo raggiunto un tenore di vita che era assolutamente in linea con i miei desideri molto di più di quanto mi sarei mai immaginato quello che mi dava piacere era il percorso cioè la crescita di quello che stava costruendo la crescita personale la creazione di un progetto non era neanche più cioè aveva era spinto da qualcosa che non era la gratificazione immediata era una gratificazione che poteva portare avanti nel tempo tanto che a quel punto lì non so se passa il concetto è molto profondo a quel punto lì non era neanche più alla ricerca della gratificazione era la ricerca di un percorso di costante di miglioramento costante chiaramente dalla propria realtà professionale piuttosto che finanziaria a un certo punto ha raggiunto la pace dei sensi e la maggior parte degli imprenditori di successo che io ho studiato o persone finanziariamente di successo hanno raggiunto questa condizione dove è chiaro che si tolgono degli sfizi cioè non è che ripeto non è che non estremizziamo ok gli sfizi se li tolgono ma sono in grado di sono molto razionali nel decidere quando toglierseli e sono maturi a sufficienza dal dire magari questa cosa non me la prendo adesso me la prendo tra un anno ok dopo tutto dopo tutto chi è che dice lo voglio subito no lo voglio adesso e lo dicono i bambini e lo dicono i miei figli quindi l'atteggiamento l'avere una gratificazione istantanea immediata o nel più breve tempo possibile in qualunque campo o raggiungere un obiettivo non mettendo sul piatto impegno sforzo determinazione nel lungo periodo cioè mi sono perso nella frase comunque il concetto è chi vuole gratificazione istantanea i bambini o persone che non sono che non hanno il mindset giusto potenzialmente immaturi chi riesce a ottenere risultati e chi riesce a ragionare nel lungo periodo sia nella gestione finanziaria che nella gestione professionale che in qualunque altra qualunque altro ambito posticipando avanti determinati raggiungimenti o soddisfazioni personali che ci si vuole togliere e questo è un segno di grande maturità lo ripeto sono casi studio questo si chiama modeling è una terminologia di Anthony Robbins un concetto di Anthony Robbins cioè copiamo persone che hanno ottenuto successo cerchiamo di capire perché hanno ottenuto successo quali sono i caratteri gli aspetti caratteriali che li hanno portati a ottenere questi risultati cerchiamo di capire cosa possiamo copiare cosa non copiamo questo è un esempio che abbiamo riportato che non è da copiare dal punto di vista della gestione finanziaria ma studiamo le persone di successo perché abbiamo da imparare bene Simone ci sono vari casi in cui le persone che hanno vinto milioni alla lotteria hanno sperperato tutto sì e si sono ritrovate più poveri di prima Bob Proctor spiega molto bene la mentalità di chi torna povero assolutamente non conosco bene Bob Proctor ho studiato altri formatori americani però insomma diciamo che i concetti sono poi quelli apotropaico il domani è impalpabile il presente invece lo puoi assaporare certo è vero è indiscutibile cioè non è una gran certo però non pensare che ci sarà un domani vuol dire augurarsi di non arrivarci e quindi è un controsenso cioè io non è cioè è chiaro che cerco di goder questa è la difficoltà ragazzi questa è la difficoltà dell'adulto è trovare il compromesso in qualunque cosa tra lavoro e vita personale tra lavoro imprenditoria e hobby eccetera è trovare il giusto compromesso e negli estremismi non c'è mai di solito la chiave cioè il miglior compromesso è non sacrificare nessuno di questi elementi come anche la tematica temporale non puoi vivere solo nell'oggi come non puoi vivere solo nel domani penso sia logico cioè questa è l'ultima sofisticazione per chi cerca di dare alla propria esistenza un senso trovare il miglior compromesso e non può essere vivi come non ci fossero domani o non goderti il presente perché vivi solo come ci fossero domani come perché vivi solo nel domani come non ha senso neanche vivere nel passato c'è certa gente che dice ah si stava meglio quando si stava peggio no cioè viviamo nell'oggi consapevole e il nostro focus dovrebbe essere non so un 50-60% sull'oggi ma vabbè anche 60-70% ma un 20-30% adesso sono numeri sparati a caso per farvi capire più o meno l'entità del focus dovrebbe essere concentrato sul domani perché il domani ci sarà è chiaro che è più difficile perché è impalpabile ma tutti ci auguriamo di invecchiare e di diventare nonni direi o no o se non nonni di 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 far sì che la nostra vita evolva e trovarsi davanti a sfide differenti rispetto a quelle di oggi o no ma Matteo grazie per il tuo tempo e il tuo impegno il problema è che la maggior parte delle persone non ha la capacità di pianificare a lungo termine allora dal punto di vista personale eh questo può essere un problema e io ne parlo nel senso che mi rendo conto che io ho una particolare è una predisposizione questa ho una predisposizione nel pianificare e nell'essere un vabbè non voglio entrare nel dettaglio del fatto che ho un file di monitoraggio di ogni mia giornata ma vabbè eh che posso gantizzare posso trasformare in un database ma questa questa è la mia personalissima gestione personale però sono eh sono ho una propensione a ragionare nel lungo periodo e la ragione ne abbiamo parlato nel webinar perché le persone non tendono a ragionare nel lungo periodo anche perché siamo viviamo una condizione sociale in questo momento di difficoltà crisi eccetera e gli italiani sono vincono il premio per la popolazione tra le più pessimiste al mondo e purtroppo si tende a ragionare nel breve ma questi questi contenuti che come vedi sono di mindset in ambito generale ma hanno una totale applicazione in ambito finanziario sono tematiche che dobbiamo padroneggiare in ambito finanziario è più semplice perché quello che spieghiamo all'interno di pianificazione finanziaria che fai da te è come trasformare un progetto di vita che devi avere obiettivi di vita compro la prima casa voglio smettere di lavorare prima dell'età pensionabile voglio fare studiare i miei figli all'estero non lo so eccetera idee di vita obiettivi di vita in obiettivi finanziari con un piano che si possa calcolare numericamente per arrivare a destinazione questo è è chiaro che se tu non hai obiettivi e molte persone ci contattano dicendo io non ho obiettivi è difficile non avere obiettivi ed è chiaro che è un percorso che non ti aiuta in alcun modo perché il percorso ti aiuta a dare un valore numerico finanziario ad un'idea di vita che tu hai al di là del denaro prima sono i tuoi sogni poi gli associ un costo e poi dopo verifichi se i tuoi sogni sono realizzabili perché non è detto che magari tu possa realizzarli tutti però pianificare vuol dire anche questo non posso fare tutto trovo il migliore compromesso tra quello che posso fare e quello che magari vorrei fare ma devo un attimo correggere il tiro perché non non è sostenibile e allora trovi il miglior compromesso questo è il messaggio importante da fare cioè da comprendere Antonio Narmenni ha capito tutto bisogna ridurre il tenore di vita e amministrare meglio le risorse il tema del tenore di vita le persone non capiscono quanto sia importante ma è la chiave di volta all'interno del percorso pianificazione finanziaria fai da te c'è un capitolo che si chiama vivere di rendita e non è cioè non è il vivere di rendita dei video che trovi su youtube che è fuffa è vivere di rendita all'americana significa in america non c'è l'inps lo sapete ve l'ho detto 50 volte le persone smettono di lavorare se hanno capitale accumulato che permetta loro di mantenere il loro tenore di vita quando andranno in pensione in altre parole hanno un milione di dollari a 65 anni per dire e poi ogni anno ne prelevano un pochino e sanno che quel capitale gli deve durare 30 anni 40 anni dai 60 anni ai 95 100 poi potenzialmente può finire e loro fanno piani il retirement planning all'americana in salsa americana è questo come gestire un patrimonio accumulato per utilizzarlo nel al fine di sostenersi quando sostenersi finanziariamente quando smetteranno di lavorare la definizione del tenore di vita è fondamentale infatti ci sono un paio di lezioni su questo tema perché perché è chiaro che se tu hai un milione di un milione di euro o di dollari o di un milione di bitcoin ma la tua vita costa un milione di bitcoin all'anno cioè il tenore di vita puoi avere qualunque puoi avere un patrimonio enorme ma se il tenore di vita è troppo elevato come i casi che abbiamo discusso in questa diretta non è sostenibile comunque quindi non è il patrimonio in valore assoluto che definisce la sostenibilità di un piano come vivere di rendita è un mix di tenore di vita patrimonio e tasso di remunerazione del capitale eccetera vari aspetti è chiaro che maggiore è il tenore di vita maggiore è il capitale che serve quindi il caso di Francesco tra l'altro è uscito oggi un video che abbiamo fatto insieme e guardatelo perché ne usciranno vari insomma mi piace questa collaborazione che ho con Francesco ma mi sono accorto che ho sono un po' non sono centrato sicuramente il fatto che lui abbia un tenore di vita così estremo molto più estremo di quello che è il mio grado di accettazione però lo aiuta nel mantenere sostenibile il suo progetto quindi a me piace la ragione per cui collaboro con lui perché è un pensatore fuori dagli schemi poi è chiaro che ognuno deve adattarlo al proprio al proprio contesto io non riesco a vivere con 500 euro al mese direi proprio di no ok Davide prendere l'iniziativa imparare sempre e dare tempo yes io sono l'opposto di chi si mangia tutto anche se vincessi milioni all'enalotto penserai subito all'inflazione che me li mangia e in che cosa investire è giusto cioè è giusto vedi il compromesso poi uno deve anche pensare che cosa me ne fa cioè giusto non perderli la priorità è non perderli la seconda priorità è mantenere il passo dell'inflazione però chi l'ha detto che uno debba ecco questo è un aspetto importante molta gente ci contatta e dice ma voglio vivere di rendita ma vivere di rendita tecnicamente vorrebbe dire che se tu hai un milione di euro questo capitale rende produce una rendita del 3% all'anno tu dovresti vivere del 3% che produce della sola rendita ok quindi non consumeresti il capitale ma vivere di rendita vuol dire vivo della sola rendita teoricamente ma non è così non è detto che debba essere così infatti negli Stati Uniti non si fanno piani dove si consuma solo la rendita si fanno piani dove c'è sia consumo di rendita che di capitale è chiaro che se non fai una pianificazione finanziaria ti trovi come nel caso di Flavio Bucci o di qualunque altra persona che è andata in fallimento finanziario dove ha consumato talmente tanto capitale non solo la rendita ma anche talmente tanto capitale che poi li ha finiti quindi vedi bisogna tarare tarare l'orizzonte temporale però dove non c'è niente di sbagliato nel consumare capitale chi se ne fregge cioè i miei figli devono essere finanziariamente autonomi non è che devono dipendere dalle mie finanze poi è chiaro che li aiuterò il più possibile però cioè io entro certi limiti in linea con quello che è il mio stile di vita voglio poi godermeli giusto? la percepite? la differenza? Wompia quanto scrivi? grande il mio il marito americano di una mia amica il prossimo anno sarà in pensione e avrà 45 anni oh yes non io sono andato negli Stati Uniti a settembre ci torno probabilmente a maggio e molti ho conosciuto diverse persone che tra i 40 e i 45 anni hanno smesso di lavorare non con tenori di vita da 100.000 dollari all'anno di costo però chiaro Monica video con Francesco già guardate apprezzate vedrete i prossimi ne abbiamo già registrati un paio Wompia di Narmeni condivide alcuni concetti per me per certe cose è folle io voglio vivere bene con molte fonti di entrate sì no ma anche per me folle direi estremo cioè l'idea di farmi il sapone io glielo ho detto rido scherziamo su sta cosa non esiste dai non esiste però però per me è stimolante perché mi dice che se lui lo fa si può fare poi è una mia scelta decidere di farlo o no secondo me è affascinante essere esposti a questi contenuti perché lui ti fa capire che si può fare nessuno te lo impedisce lui si fa la legna cioè va nel bosco a farsi la legna lo farei mai io no io la comprerei già tagliata cioè se mai volessi avvicinarmi la comprerei già tagliata è affascinante o no per me è affascinante cioè io sono cerco di tenere la mente molto aperta poi è chiaro che prendo quello che mi piace prendere e quello che è in linea con i miei valori non tutto però su certe cose ad esempio sul consumismo estremo mi trovo molto in linea infatti ci saranno dei video che sono tra i miei e i suoi ci può essere anche una buona sovrapposizione Marco ciao Giorgio fantastica la collaborazione con Francesco costruttiva e assolutamente aiuto in quanto due esempi reali di struttura imprenditoriale sì adesso Francesco parlo io per lui ma te lo dirà lui lui è spinto dalla creazione di una community non ha una finalità imprenditoriale dietro bene allora niente questo era il messaggio Diego che mi scrive su Facebook facciamo consulenza no a meno di cose specifiche di previdenza scrivici a info che ti diamo maggiori informazioni Wompia io trovo assurdo quando dice che la gran parte dei lavori non serve ma se tutti vivessero come lui torneremmo torneremo al decimo secolo senza la sanità eh questo è una cosa funziona finché siete in quattro gatti finché sia in quattro gatti e vivere così è indiscutibile indiscutibile e sono d'accordo al cento per cento ma infatti a me quello che piace è prendere spunto per la mia personalissima gestione finanziaria non ritengo sia sostenibile a livello generalizzato a livello generale di società certo quindi quindi sì eh beh bisogna bisogna fare le valutazioni con cognizione di causa insomma comprendendo sono messaggi molto profondi suoi però bisogna capire cosa prendere cosa no e il suo obiettivo è stimolare il suo obiettivo è essere provocatorio con il suo esempio e secondo me lo fa benissimo questo ed è la ragione per cui abbiamo avviato questa collaborazione e poi ognuno deve prendere e lo ripeto se il tuo piano finanziario è sostenibile vai avanti il mio deve essere sostenibile considerando il costo di andare a comprarmi la legna ma non solo ma molti più lussi cioè io comunque la passione ho una famiglia ho due figli ce li anche lui ma diciamo che voglio comunque dargli ho un piano che è abbastanza chiaro su quello che voglio che facciano i miei figli come possibilità non come percorso come possibilità che voglio dargli non voglio sicuramente lavorare per sempre ho degli obiettivi di spesa perché amo viaggiare amo tutto quello che amo il motociclismo i motori eccetera cioè quindi voglio vivere una vita normale però consapevole che devo concentrarmi sul trovare il giusto compromesso è questo l'obiettivo la pianificazione finanziaria è questo è lavorare per trovare il miglior compromesso pianificando il possibile pianificando il futuro il più possibile consapevole che il futuro lo progetti cioè sì lo progetti lo proietti e ti proietti nel futuro potrebbe essere potrebbe cambiare potrebbero esserci eventi inaspettati e bene la vita è fatta così è piena di cose inaspettate giusto bene bene io direi che ci salutiamo guardate i video del canale in queste tre settimane perché come vedete visto che siamo in fase di lancio del percorso pianificazione finanziaria fai da te vi ricordo che è in promozione fino all'8 di marzo maggiore informazione nella pagina gpinvest.it slash pianificazione che trovate in sovraimpressione voi che siete su youtube in occasione di questo lancio stiamo proponendo molti contenuti mirati su queste tematiche ho un altro paio di dirette con altre idee molto interessanti che voglio condividere che farò la settimana prossima in futuro quindi non perdetevi il canale perché in queste tre settimane appunto sarete esposti a contenuti coerenti con questi messaggi molto cioè di grande valore teniamo da parte un po' la tecnica dell'investimento che tornerà con e anche le mie esperienze di investitore immobiliare torneranno a marzo ma adesso concentratevi su questo perché secondo noi è comunque la priorità numero uno non solo in ambito finanziario ma proprio di raggiungimento di un benessere di vita generale è la priorità numero uno di ogni persona poi chiaramente noi ci focalizziamo sulla declinazione finanziaria di questo concetto ok ma bisogna pianificare in qualunque cosa in qualunque campo della propria vita con questo ci dopo tutto non è un caso che comunque avesse due matrimoni alle spalle Bucci ok non ha pianificato può succedere però dico molto spesso troverai delle analogie tra persone che hanno vite familiari non di successo e vite finanziarie non di successo troverai milionario della porta accanto la maggior parte dei milionari comunque non aveva divorziato non aveva aveva trovato una compagna che era in linea poi proprio con la propria visione studiate queste cose sono testimonianze importantissime vi fanno capire come le cose sono estremamente interconnesse la sfera personale e la sfera finanziaria con questo è tutto ci vediamo in una diretta direi sia lunedì la prossima guardate il canale perché è pieno di bombe in queste tre settimane e l'otto di marzo scade l'offerta per pianificazione finanziaria fede a te ciao buon weekend buon tutto ciao ciao ciao